Da quando è iniziata la pandemia, l'Hospis non ha più una sede. Da ormai un anno, infatti, la struttura per le cure palliative per accompagnare al fine vita i malati terminali ha traslocato dalla palazzina Calcite nei pressi dell'ospedale San Donato, prima a Pescaiola, ospite della Coenè, poi al San Giuseppe Hospital, senza mai trovare però una sede definitiva. Nel corso di quest'anno tante le idee e le proposte lanciate, ma ancora nulla di fatto e soprattutto nulla che si avvicini a ciò che l'Hospis garantiva a pazienti e alle loro famiglie. Così l'ex direttore delle cure palliative per Domenico Maurizzi ha promosso, presso la piattaforma www.change.org, una petizione popolare per l'Hospis di Arezzo diretta al presidente della regione toscana Eugenio Gianni, tra i primi ad aderire all'iniziativa il gruppo consigliare Scelgo Arezzo. L'invito che rivolgiamo ai cittadini, scrivono, è di fare altrettanto. A seguito della pandemia, come noto, la struttura risulta itinerante e comunque sfrattata dalla sua sede originaria, in cui era ospitata dal 2018. Parliamo, concludono, di un vulnus nei servizi sanitari da colmare assolutamente.